Con grande senso di appartenenza e con spirito di servizio ho accettato con entusiasmo l'incarico di presidente provinciale della CIA di Arezzo. Ringrazio tutti i soci che questa mattina mi hanno sostenuto e deletto. È una fortuna per me poter contare, sono una squadra forte, la mia giunta che mi accompagnerà in questo mandato, una giunta che ho voluto lasciare aperta perché spero che poi nel cammino che faremo insieme, nei territori, insieme ai nostri soci, nei vari momenti di confronto e di ascolto si possa ancora incrementare ed allargare. Credo che dobbiamo fare proprio un grande lavoro di rappresentanza per poi riuscire a portare alle istituzioni e ai livelli superiori tutti i bisogni delle tante agricolture di questa provincia. Credo che dobbiamo fare un grande lavoro di attenzione e attenzione e attenzione e attenzione.